Ho ricevuto numerose segnalazioni a proposito degli immobili della regione, vecchio ospedale, maternità, che sarebbero in condizioni disastrose e di cui nessuno sembra occuparsene più. Allora io vi dico che è una questione complicata, senz'altro. Prendiamo il vecchio ospedale. Nella mia amministrazione avevo tentato in tutti i modi di farlo vendere alla regione senza riuscire molto a farmi sentire, ma quantomeno avevo fatto due proposte. Una per l'ospedale, cioè quella di dire ospedale, regione, dammelo in gestione. Io almeno lo tengo pulito, lo organizzo e lo uso per la città. Intanto non diventa un deposito di immondizia e anche un ricettacolo di malaffare. Tant'è che ricorderete che lì si facevano feste, manifestazioni, venivano usato come giardino, andavano i bambini. Per quanto riguarda la maternità, con il piano che avevo proposto, quello di trasferire lì una scuola, rispetto al passato non solo non si è fatto un passo avanti, ma la cosa è andata peggio. Da parte mia sarò disponibile per dare qualsiasi impulso a questa vicenda, ma dispiace vedere che non si faccia proprio nulla, neanche quella piccola manutenzione, quell'intervento di decoro che aiuti la città a non avere un bubone proprio nel cuore della città. Faccio un appello agli amministratori attuali, che sicuramente avranno fatto quello che potevano, ma si vede che hanno potuto proprio fare poco, perché la situazione sta andando veramente molto male.